Quattro persone sanzionate per la violazione delle norme anti-covid e una segnalata per uso di sostanze stupefacenti. È il bilancio dei controlli messi in atto dai carabinieri della compagnia di Tiene. Due giovani sono stati trovati in possesso di un involucro che conteneva un grammo di marijuana e così un 21enne di Faravicentino è stato segnalato alla prefettura come assuntore. In un parco giochi, sempre a Faravicentino invece, è stato trovato dai carabinieri nascosto tra i rami di una siepe un austuccio che conteneva un grammo di marijuana. Per quanto riguarda i controlli sulle norme anti-covid sono state identificate complessivamente 23 persone di cui quattro sono state colpite da una sanzione amministrativa per la violazione delle regole introdotte per contrastare la pandemia.